Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV con questa nuova puntata di football finalmente abbiamo ottenuto l'accordo al buio a 5 stelle e ci andiamo a riscattare ci andiamo a riscattare o andiamo anche a migliorare ragazzi adesso vi faccio vedere perché chi mi segue lo sa andiamo qui contratto mirato abbiamo il nostro bel 5 stelle da poterci riscattare che è proprio lui Haaland eccolo qui 92 parte da 92 contrattacco 80 quindi c'è poco da migliorare nel contrattacco ragazzi questo può diventare il giocatore più forte che ho in rosa andiamola ad ingaggiare col contratto mirato il modo per poterlo riscattare è semplice basta giocare 5 partite in evento tour adesso vi faccio vedere quale quindi non è difficile ottenere Haaland che è un mostro ragazzi è un mostro cioè è un mostro l'abbiamo ricevuto a posto quindi adesso fa parte del nostro club possiamo metterlo in campo allora come si fa ad ottenerlo come si fa a scaricarlo come si fa a ottenere l'accordo a buglio 5 stelle basta giocare 5 partite non importa se pinciate se pareggiate o se perdete andiamo qui su eventi io lo ho giocate qui in Europa al Master Cup basta c'è scritto evento tour ok ragazzi evento tour quindi c'è questo e c'è questo starter che già l'ho completato quindi ragazzi questi due modalità giocando 5 partite ci danno la possibilità di avere Haaland il contratto migliorato a 5 stelle che ci permette di riscattarlo è chiaro? è chiaro ragazzi? è chiaro? no penso di sì andiamo sulla mia squadra a questo punto andiamo a migliorare Haaland che io sono veramente curioso di sapere a quanto può arrivare secondo me può arrivare anche a 96 97 vedete io massimo a 95 secondo me questo può arrivare a 96 ragazzi eccolo andiamo a migliorarlo ma di un botto lo andiamo a migliorare ragazzi opzione progresso giocatore no prima allenamento aumento di livello ok siamo riusciti a farlo migliorare ad allenarlo siamo arrivati ai 7 livelli che ci servono adesso andiamo su opzioni giocatore progresso giocatore andiamo su stile di gioco che è contraattacco per quanto ci riguarda vedete usiamo soltanto due punti andiamo su consigliati ragazzi qui su consigliati cioè arriviamo a una cosa spropositata potenza tiro 91 salto 92 velocità 90 ragazzi questo è un mostro questo è un mostro ok andiamo indietro usa i punti vediamo a quanto può arrivare 95 ragazzi 95 io pensavo un punticino in più vi dico la verità io pensavo un punticino in più pensavo un punticino in più invece 95 siamo riusciti a farla arrivare comunque resta un mostro resta uno dei giocatori più forti che ho vedete a 95 abbiamo Beckenbauer Lewandowski Haaland e De Bruyne questi sono i nostri 95 i nostri punti di diamante a questo punto ragazzi devo mettere in panchina o Lewandowski o Romario perché gioco con due punte mi trovo costretto a mettere un di due in panca io penso che metterò in panca per adesso Lewandowski perché voglio tenere una punta di peso e l'altra un po' più scattante che è sicuramente Romario quindi mi terrò in panca per adesso Lewandowski per carità un ottimo panchinaro se si può dire così perché non si può dire Lewandowski sia un panchinaro io intanto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti